buongiorno bikers benvenuti in una nuova session e soprattutto buon 2018 infatti questa sarà la prima session del 2018 non inizia benissimo per me perché c'è un camioncino del gls che mi sta bloccando e niente adesso aspettiamo un attimo perché andremo a lodi a girare al lune e mezza dovevamo essere la e infatti adesso c'è kevin che mi chiama in pratica è l'uno e un quarto e siamo ancora a casa mia pilo e kevin il ritardo a tari infatti arriviamo tardi a ogni raduno non per colpa mia ma per colpa di pilo e kevin maledetta siamo arrivati al punto di raccolta e abbiamo rifo suo figlio kevin paul e pilo ora basta perché se non prende il copyright per la canzone wow Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Iphone X in common Aspetta Bella Fisso nella telecamera Guardami No cheat Scendi Fisso nel yorki Fisso nel yorki